Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le proposte avanzate da strada dei parchi alla regione per la modifica del tracciato non appaiono né coerenti né convincenti e quindi non in grado di cogliere le finalità imposte dalla legge. Un adeguamento sismico delle autostrade abruzzesi dunque non può passare per le varianti così proposte. La prima firma nell'atto è quella del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca, secondo firmatario l'assessore regionale alle aree interne Andrea Giarosolimo. La disamina del sottosegretario Mazzocca sulle varianti è stata una sorpresa per l'opposizione che in aula e sulle varianti ha chiesto alla maggioranza il ritiro dei pareri favorevoli espressi sul progetto dalla regione. Inaspettata a dir poco è anche l'approvazione del documento che dà ragione al mondo ambientalista e a chi sino ad ora ha adottato vari argomenti per escludere questi interventi in variante per le autostrade abruzzesi. Ad un'attenta lettura le varianti appaiono sovradimensionate e controproducenti sui due tratti dell'A24 e A25. Sono 30 chilometri in meno di autostrada per 55 gallerie in più e un investimento di quasi 2,5 miliardi di euro in cambio della riduzione del tracciato. La società ha chiesto una proroga di 45 anni della concessione delle autostrade abruzzesi. Dopo i nostri numerosi interventi e dopo mesi di discussione finalmente la maggioranza e il presidente D'Alfonso iniziano a scoprire le carte del progetto relativo alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e soprattutto a capire di interloquire e confrontarsi con il Consiglio regionale ciò che ha evitato nell'ultimo periodo. Questo il colmento dei consiglieri regionali di Forza Italia, Sospiri, Febbo, Iampieri, Gatti e Chiodi che rimarcano come nel documento approvato dalla maggioranza si siano evidenziate numerose criticità. L'incidenza ambientale sui siti e aree protette, l'isolamento delle aree interne, l'impatto infrastrutturale e socio-economico oltre all'aumento delle tariffe per il pedaggio. Problematiche che adesso saranno invece studiate e affrontate nella commissione competente dove sarà lo stesso D'Alfonso a intervenire e illustrare le intenzioni dell'esecutivo regionale. Ancora una volta la propaganda supera il buonsenso. È stato bocciato nel corso del Consiglio straordinario il documento del Movimento 5 Stelle che invitava la Giunta a ritirare il parere favorevole e a dichiararsi contrario a questa onerosa quanto inutile maxi opera già bocciata dal Ministero delle Infrastrutture. Forse ironizza il consigliere regionale Sanna Marcozzi come più volte dagli stesso affermato il Presidente D'Alfonso prende tempo con la speranza di arrivare lui alla guida del Ministero. Così forse potrà sbrogliare questa matassa per sventrare l'Abruzzo. Ma mentre attendiamo le evoluzioni della carriera politica del Presidente le opere che servono agli abruzzesi non si fanno. Passiamo alla cronaca adesso. 14 misure cautelari in carcere e agli arresti domiciliari nell'ambito di una vasta operazione che ha coinvolto tutto l'Abruzzo denominata Raiders è condotta dai carabinieri della Compagnia dell'Aquila, coadiuati dai militari delle Compagnie di Chieti, Montesilvano, Pescara e Vasto. I dettagli nel servizio di Niusha Riocci. Vediamo. 42 capi d'accusa e 18 soggetti indagati nell'ambito dell'operazione Raiders portata avanti dai carabinieri dell'Aquila in collaborazione con i colleghi di Pescara, Montesilvano e Vasto. Raiders ossia predoni proprio per le caratteristiche d'azione dell'associazione a delinquere. dedita prevalentemente al furto di rame, per un valore approssimativo stimato attorno ai 200.000 euro, che non disdegnava però reati di crash trapping, ossia di furti ai bancomat, nei quali venivano invece impiegati donne e bambini, oppure automezzi utilizzati per eseguire l'attività criminale. L'attività di indagine è stata avviata a seguito del furto presso la società aquilana Vivenda S.P.A., dove veniva rubato proprio un autocarro, munito però di dispositivo GPS. Questo sodalizio è quello del furto ai bancomat con la metodologia cosiddetta del cash trapping. Sostanzialmente è una tecnica che si avvale nel mettere un manufatto, un uncino all'interno del bocchettone erogatore del denaro e nel momento in cui l'ignaro avventore richiede il denaro stesso non lo vede erogato. L'avventore crede in un malfunzionamento della macchina e quindi si allontana senza preoccuparsi di nulla. Ovviamente subito dopo si avvicinano i malviventi ed estraggono i soldi trattenuti da questo manufatto precedentemente posto all'interno del bocchettone, ripeto. La massima attenzione, se si nota qualcosa di irregolare, di strano, invito tutti a chiamare il 112 o appunto l'istituto di credito presso cui ci si sta rivolgendo. Il risultato di rame alla Vivenda, grazie a una localizzazione GPS di cui era dotato il mezzo con cui si era allontanato il malvivente, è stato rintracciato dalle sue dichiarazioni poi siamo riusciti a dare maggior impulso alle intercettazioni telefoniche e quant'altro e quindi a risalire a tutta la filiera, a tutti i sodali dell'organizzazione crimine. Non disdegnavano assolutamente alcun tipo di reato predatorio, sostanzialmente facevano razzie di tutto e da qui appunto il nome Riders, perdoni. Ancora cronaca, un decesso causato dalla sindrome della morte improvvisa del lattante. Questo è quanto emerso dall'autopsia eseguita oggi pomeriggio dall'anatomopatologo Christian Dovidio sul corpicino della bambina di due mesi ritrovata ieri mattina priva di vita dalla mamma nella sua culla. L'autopsia, durata quasi cinque ore, ha escluso categoricamente la morte violenta. Gli esami macroscopici hanno anche escluso la presenza di malformazioni. Nessun segno di rigurgito ma solo appunto della sindrome della morte improvvisa del lattante. Il corpicino della piccola con l'autorizzazione del pubblico ministero Barbara Del Bono verrà restituito alla famiglia per l'effettuazione dei funerali. E a sorpresa il sindaco di Chieti Umberto Di Primio non si dice contrario all'ospedale Maltauro smarcandosi in un certo senso dal centrodestra ma chiedendo che si diano risposte ai cittadini per una sanità migliore. Paolo Renzetti. Sull'ospedale Maltauro il sindaco di Chieti Umberto Di Primio non si dice contrario a priori chiedendo però risposte certe che vadano nella direzione dei cittadini e del miglioramento dei servizi sanitari. Ad oggi nessuno ci ha ufficialmente chiesto che cosa pensiamo come amministrazione comunale di un intervento che dovrà essere fatto sulla nostra città. Forse qualcuno dovrebbe comprendere meglio che quando si interviene anche se con strumenti speciali comunque le amministrazioni vanno coinvolte. Quanto all'investimento sull'ospedale. Io dico molto chiaramente da sindaco della città che sono pronto ad ascoltare e a ricevere qualsiasi iniziativa che possa portare in città investimenti, soldi e realizzazioni. Chiaro, questo non vuol dire dir sì a quella proposta così come non dico no a quella proposta a priori o per partito preso. La dovremo leggere, la dovremo capire, dovremo comprendere se quello che viene proposto è per davvero un beneficio per i cittadini e per la comunità e poi potremo esprimere in modo compiuto il nostro pensiero e quindi anche aderire eventualmente a quella proposta. Dico che sulla sanità dobbiamo smetterla, la deve smettere la regione di giocare con i presidio spegialieri mettendo l'uno contro l'altro armati, la deve smettere chi pensa soltanto a dire no guardando alle pulci ma poi non comprendendo la reale difficoltà e l'enormità delle problematiche di politica sanitaria e soprattutto guardo a quello che oggi viene fuori dal decreto Lorenzin. Noi dobbiamo immaginare che nell'area Chieti-Pescara ci sia una non subalternità dell'uno rispetto all'altro ma ci sia la possibilità di dialogare per costruire un'azienda sanitaria che abbia la forza di diventare un DEA di secondo livello. Questo è il tema sul quale io mi vorrei confrontare. Il sindaco di Penne Mario Semproni ha incaricato un legale per predisporre un esposto denuncia alla Procura per accertare i motivi che ritardarono 5 anni fa lo sgombero della scuola Mario Giardini e per chiarire le cause dei mancati lavori di adeguamento sismico dell'immobile di via Caselli considerando che le due perizie tecniche depositate il 18 giugno 2010 e il 5 luglio 2011 certificarono criticità strutturali e in particolare scadenti prestazioni di calcestruzzo al di sotto dei limiti della normativa. Come spiega l'amministrazione comunale in una nota per i lavori di adeguamento sismico il comune di Penne ottenne un contributo statale di 776 mila euro. I fondi però non sono stati spesi ma destinati dalla precedente amministrazione per la costruzione di una nuova scuola in via dei Lanaioli. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi ha illustrato il progetto di legge presentato in consiglio sulla mobilità sostenibile. Vediamo. Consigliere, quali sono le novità di questo progetto di legge che presenterete per quanto concerne la mobilità sostenibile? Sì, l'idea è proprio quella di dare maggior impulso all'uso della bicicletta. Ovviamente la nostra regione per motivi morfologici e orografici impedisce lo sviluppo e l'uso di questo mezzo ma attraverso le bici a pedalata assistita si potrebbe sostituire l'uso nell'età più giovane delle moto che sono sicuramente molto più pericolose e molto più inquinanti e l'uso dell'autovettura soprattutto all'interno delle grandi città. La nostra regione non si presta all'uso della bici per ovvie ragioni e soprattutto c'è un problema di costi. Le bici a pedalata assistita hanno un costo ancora troppo alto. L'idea è proprio quella di dare un piccolo finanziamento per un massimo fino a 200 euro o comunque il 30% del costo della bici e andare incontro a questa esigenza e quindi dare un maggiore sviluppo e un maggiore impulso alla vendita di questo mezzo. Una proposta che va nella direzione della mobilità sostenibile? Assolutamente sì, questo era nel nostro programma. L'idea è assolutamente quella, promuovere quanto più possibile l'uso di mezzi ecosostenibili. La bici è esattamente uno di questi. Nelle regioni del nord questo già avviene. Ovviamente in paesi della comunità europea che sono molto più pianeggianti del nostro la bici è il maggior mezzo di locomozione. Nella nostra nazione questo è ancora molto limitato. Pensiamo che in Italia soltanto 5.000 unità di bici a pedalata assistita se non ad oggi sono state vendute. è un numero ridicolo per una regione che dice ancora di essere il pomone verde d'Abruzzo, il pomone verde d'Europa. A rischio il piano stralcio antialluvioni del fiume Pescara. A renderlo noto i consiglieri di Forza Italia che accusano la regione di non aver tenuto in considerazione importanti modifiche compiute sul territorio per la messa in sicurezza da esondazioni. Francesca Aromana Testi. Un appello alle istituzioni regionali e pescaresi. Antiforza Italia ricorda che la questione allagamenti e l'opera messa in essere per ovviare all'annoso problema non ha ottenuto le dovute attenzioni e c'è tempo fino a novembre per presentare le osservazioni utili al completamento dell'opera. Soprattutto c'è il rischio concreto che mezza città subisca pesanti penalizzazioni a seguito di una serie di vincoli rispetto alle attività edilizie e quindi anche commerciali in qualche modo. Sostanzialmente la giunta regionale ha adottato uno strumento che vincola pesantemente Pescara, la parte più importante di Pescara, quella maggiormente edificata ed urbanizzata. In modo riteniamo assolutamente errato perché non si tiene minimamente conto di tutta una serie di opere di salvaguardia tra messa in sicurezza degli argini piuttosto che realizzazione di porte che dovrebbero migliorare la situazione in caso delle possibili esondazioni, cui il fiume Pescara comunque in qualche modo è stato oggetto e per esempio quindi evitare il vincolo sulla realizzazione dei semi interrati o piuttosto l'imposizione di in caso di interventi edilizi alzarsi di un metro rispetto al piano di campagna. Tutto ciò determina che cosa? Determina la paralisi edilizia della città, l'impossibilità per esempio di destinare una serie di immobili cambiando le destinazioni d'uso e quindi con una sorta di riconversione verso il commerciale piuttosto che verso il residenziale. Insomma una situazione altamente pericolosa per quella che è l'intera economia cittadina. Finora si è dormito abbastanza sia da parte della giunta regionale che da parte della giunta comunale, c'è ancora un mese di tempo per presentare osservazioni ed emendamenti modificativi. Noi sollecitiamo interventi in questo senso sia da parte del governo regionale che del governo cittadino e quindi la sollecitazione forte che non può essere solo dell'opposizione ma credo debba essere di tutta la città non può non giungere alle orecchie di chi governa in questo momento i due enti. Cambiamo argomento adesso perché continuano gli appuntamenti sul territorio abruzzese in vista del referendum del prossimo 4 dicembre. Esponenti del centro-destra e non solo si sono ritrovati a Città Sant'Angelo per esporre le ragioni del no. Le ragioni del no al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Questo è il tema dibattuto a Città Sant'Angelo nella Sala Consigliere del Comune in un incontro coordinato dal gruppo civico Responsabilità Comune e che ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche di centro-destra. Noi difendiamo le ragioni del no per tre ragioni principali. La prima perché non è vero che si modernizza l'Italia. Se fosse stata completamente abolita una Camera, in questo caso il Senato, allora sì probabilmente i processi legislativi sarebbero stati più veloci. In realtà la Camera del Senato rimane con la differenza che i senatori non sono eletti da nessuno ma sono consiglieri regionali che in buona parte acquisiscono anche la garantigia dell'immunità. Vincenzo Dincecco, capogruppo provinciale di Forza Italia. Noi crediamo che alla base di una riforma costituzionale ci debba essere un presidenzialismo. Questa riforma non è nient'altro che un pasticcio all'italiana con alcune modifiche che portano solamente altra confusione all'interno del sistema governativo del nostro Paese. Un'altra grande truffa è quella legata alla diminuzione dei costi della politica e del Senato. Il Senato continuerà ad esistere con una formula pasticciata. I fondi e i soldi che occorreranno per continuare a far funzionare il Senato saranno ancora lì. Non ci sarà una grande diminuzione dei costi se non per qualche milione di Euro. Quindi riteniamo che questa sia ulteriormente una riforma appunto per questo motivo non valida da osteggiare con un no importante e forte. Ci spostiamo a Teramo adesso dove la Giunta Comunale ha deciso per l'affidamento diretto fino a fine giugno 2017 del Teatro Comunale alla società Solti. Si chiude così qualsiasi ipotesi di contenzioso tra il Comune e proprio la Solti. Elisa Leuzzo. Il Teatro Comunale di nuovo sotto la gestione della Solti fino al 30 giugno 2017 con affidamento diretto. Lo ha deciso la Giunta Comunale dopo che la società Solti che si era giudicata all'appalto e che poi era stata rimossa in seguito al nuovo bando e al pronunciamento del Tar voleva chiedere i danni al Comune per i lavori fatti all'interno dello stabile. La settimana scorsa è stata bandita la gara per l'affidamento per 6 anni così come il Tar ci aveva indicato quindi nel rispetto anche dell'ordinanza del Tar. Nell'emore di questo essendoci una richiesta in qualche modo di riconoscimento di alcune attività fatte dalla Solti, mi riferisco ad alcune spese fatte sulla struttura, è stata come ipotesi transattiva trovata una soluzione per cui la Solti gestirà il cineteatro nelle more della gara e comunque fino a giugno, perché giugno è il termine di tutte le attività e considerando che i tempi della gara non sono ovviamente certi come succede un po' in tutte le gare. In questo modo si va a chiudere qualsiasi ipotesi di contenzioso che ci poteva essere tra Comune e la Solti per quello che è accaduto e nello stesso tempo, cosa altrettanto importante, si garantisce il servizio del cineteatro che è importante perché Terramatolo è il cineteatro comunale, il calendario prevede tutta una serie di attività comprese le varie stagioni della Riccitelli ma non solo, l'amministrazione ha ritenuto opportuno trovare una soluzione affinché il cineteatro resti aperto. Torniamo a Chieti adesso perché il centrodestra attacca la regione per il ritardo della ratifica della nomina dei due portatori di interesse che dovranno poi lavorare per la nomina del nuovo CDA degli istituti riuniti. Di Chieti, vediamo. Costa, sono passati diversi mesi, voi attendete dalla regione una risposta importante per quanto riguarda la nomina dei portatori di interesse che potranno poi nominare il nuovo CDA degli istituti riuniti. Dal 13 giugno attendete questa risposta dalla regione? Sì, noi attendiamo la risposta della regione, ma più che la risposta la ratifica della nomina sia quella mia e quella anche della parte dell'opposizione per far sì che si possa insediare il nuovo CDA. Come saprete tutti c'è stata una sentenza del TAR che ha annullato il CDA precedente perché è stato nominato illegittimamente e il comune di Chieti subito ha nominato i due rappresentanti. Due rappresentanti che da giugno stanno aspettando che venga ratificata per poter far sì che si insedi il nuovo CDA. Il nuovo CDA che già da tempo deve essere al lavoro, visto che la regione ha deliberato anche la somma di 700 mila euro per la ristrutturazione della struttura, che non so come fa il commissario alla data di oggi a gestirla. Visto che la regione ha 30 giorni di tempo per ratificare le nostre incarichi, ne sono passati 4, sicuramente se a termine non arriveranno le nostre ratifiche ci rivolgeremo alla Procura Repubblica. Il pensiero di Forza Italia, ma forse la realtà delle cose è che la regione con questo atteggiamento di ritardo nella nomina dell'Assemblea e quindi del Consiglio di Amministrazione dimostra la poca attenzione non solo per la città di Chieti e per le problematiche per le quali c'è bisogno di un'accelerazione amministrativa, ma dimostra il fatto anche che non ratificando le nomine del Consigliere Costa e della Consigliera Zappalorto, nonché Presidente Provinciale del PD, fa capire come questo atteggiamento l'assista gestire negativamente sulla questione delle XIPAB. Un'altra questione, se non si ratifica, non si costituiscono gli organi che sono di gestione e di controllo. Può un commissario affidare dei lavori con un'ampia cifra di 700 mila euro errotti e non avere alcun controllo da parte dei rappresentanti nominati a portatori di interesse nella fattispecie dei consiglieri comunali di Chieti? Si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta a Silvi Marina i funerali del consigliere comunale provinciale Nicoletta Cerquitelli, morta ieri mattina per un malore all'interno della sua abitazione all'età di 31 anni. All'esequie c'è stata grande partecipazione da parte della comunità Silvarola, il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio in apertura dell'oderna seduta ha chiesto all'Aula di osservare un minuto di silenzio per ricordarne la scomparsa assieme a quella del Senatore Corradino Di Stefano. Come Consiglio regionale ha detto Di Pangrazio non possiamo che stringerci al dolore ed all'incredulità per la scomparsa della giovanissima consigliere comunale di Silvi. La morte di una ragazza così giovane ci lascia frastornati e increduli. Il nostro cordoglio è rivolto alla famiglia e dalla comunità di Silvi che hanno subito una così grave perdita. Sulla morte della Cerquitelli ha voluto esprimere il suo messaggio di vicinanza alla famiglia anche il consigliere regionale Luciano Monticelli. Al via la ventunesima edizione del premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni di Venanzo. Il programma è ricco di eventi da oggi fino al 15 ottobre. Vediamo. La grande attrice di teatro e cinema Piera degli Esposti sarà la madrina della ventunesima edizione del premio di Venanzo. Il programma, illustrato dal presidente di Teramo Nostra Piero Chiarini, è ricco di eventi fino al giorno della cerimonia di premiazione prevista per sabato 15 ottobre. Piera degli Esposti che è una grande attrice sia cinematografica che è teatrale, è una grandissima attrice. Cerchiamo di mettere sempre delle protagoniste che hanno fatto una carriera cinematografica. Dopo gli ospiti d'onore c'è Lando Buzzanga, Raffaele Pisu, Gianni Carco che ha fatto tutti i film, ritornerà anche Giorgi Hilton. Abbiamo Antonella Salvucci che ha presentato il premio per 10 anni e quest'anno verrà premiata come attrice. Abbiamo cercato di invertire i ruoli. Olga Bisere, tanti verranno registi, ci sarà la banda di Forcella ad accogliere gli ospiti quando arrivano. Cerchiamo veramente di mantenere alto questo premio. Vittorio Sorari, che è presidente onorario, ha detto ma perché non lo chiamiamo festival? E di festival ce ne sono tanti, diceva il grande Francesco Rossi. Questo è il premio Gianni di Venanza che è stato quello che l'autore della fotografia ha innovato di più, tant'è che noi chiunque contattiamo, da tutto il mondo rispondono e vengono volentieri. È la premiazione che si terrà al Cine Teatro Comunale alle 17 di sabato 15. Apriamo adesso la pagina dello sport. Domani il Pescara torna al lavoro, torna ad allenarsi in questa settimana che però non porta a nessun impegno di campionato perché la Serie A è ferma per gli impegni della nazionale di Giampiero Ventura. Dunque il Pescara tornerà sul terreno di gioco dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico Massimo Oddo. Non ci saranno ovviamente i nazionali Memuschai, Verre e Vittorini, mentre Manai è fermo a causa della distorsione alla caviglia riportata nel match contro il Chievo e la cui entità è ancora da verificare. Dovrebbe tornare invece al lavoro Jean-Christophe Baebec. Intanto il trequartista Benali parla del momento difficile per i biancazzurri che sono ancora senza vittorie sul campo. Vediamo. Possiamo dire il più brutto Pescara di questa stagione? Sì, è un sconfitto pesante. Ci abbiamo fatto due errori, ci hanno fatto due gol, quindi ci dispiace. Abbiamo giocato forse, come l'ho detto, la partita più brutta di quest'anno, però guardiamo davanti, bisogna tornare umile, bisogna migliorare, cercherò ma di farlo. Noi siamo sereni, siamo tranquilli perché finora penso che la squadra l'ha fatta le grandi partite, quindi la vittoria arriverà, però come l'ho detto bisogna tornare a fare le partite come abbiamo fatto prima, le prime 4-5 partite che abbiamo fatto da squadra, abbiamo fatto grandi partite senza risultati, però torneremo a fare quello e cercheremo di fare più punti possibile. Si guarda la sosta, poi c'è la Sampdoria tra due settimane, a questo punto però bisognerà cambiare qualcosa per cercare di arrivare alla conquista di questo primo successo? Se bisogna cambiare qualcosa bisogna chiedere il misto perché noi facciamo… Come atteggiamento parlavo anche? Come atteggiamento non lo so, come l'ho detto, penso che le prime partite abbiamo fatto molto bene, senza risultati, però andiamo davanti da squadra, ma senza squadra non si fa niente, quindi bisogna essere uniti in questo momento difficile a fare bene contro la Sampdoria. Cosa ti senti di dire ai tifosi per chiudere l'ultimissima? Ci dispiace tanto, è un momento molto difficile, bisogna essere tutti uniti, tutti insieme e uscire da questo momento. Chi invece scenderà in campo è la Lega Pro, il Teramo sabato pomeriggio alle 18.30 contro il Padova di Oscar Brevi che però sarà squalificato, è stato squalificato dal giudice sportivo nei bianco-rossi, non dovrebbe esserci ancora una volta Federico Carraro, ancora alle prese con l'infortunio, in questa settimana finora non si è ancora allenato e dunque ha fatto solo lavoro differenziato ed è molto improbabile che possa esserci sabato sera contro i bianco scudati. Chi ci sarà invece certamente al centro della difesa è il capitano Ivan Speranza, lo ascoltiamo. Adesso per il Teramo ogni turno è importante, ovviamente se vincevamo sabato su Tirol già stavamo un po' meglio perché come abbiamo visto la classifica è molto corta, poi con tutti i risultati, tutti i pareggi c'era molto comoda quella vittoria, però sicuramente questa è una partita importante, dobbiamo comunque cercare di vincere, assolutamente in casa, quindi dobbiamo fare la partita per vincere, ma come siamo andati comunque lì a su Tirol perché noi non siamo andati per perdere ovviamente o per pareggiare, abbiamo incanalato la partita nel miglior dei modi, poi purtroppo, ripeto, per una disattenzione che si poteva evitare, quello è il peccato. Partite facili non ce ne sono, quindi noi dobbiamo pensare che, dobbiamo ragionare come se fossimo gli ultimi della classe e andare in campo come ogni partita, come fosse una finale di Champions, dobbiamo avere questo pensiero perché se pensiamo ad altro, secondo me, facciamo male. Dobbiamo, di ripeto, migliorare tanto, però dobbiamo uscire sicuramente, prima usciamo dalle zone basse, meglio è perché comunque dopo si può giocare anche forse mentalmente più tranquilli e quello può essere il valore aggiunto, bravissimo, e quindi dobbiamo cercare di uscire prima possibile magari dalle zone basse, poi magari, ripeto, partita dopo partita cercare di fare sempre meglio e di arrivare il più in alto possibile. Parliamo di basket adesso in Serie B, vittoria agevole per il Camplica, il Palaborgognone ha superato nettamente la Globo Isernia per 82 a 45, partita mai in discussione per la squadra di coach Piero Millina, attesa ora dalla trasferta di Venafro, vediamo. Tutto facile per la Globo Info Service Campli che nella prima di campionato ha superato agevolmente al Palaborgognone il Globo Isernia per 82 a 45, c'era la curiosità ovviamente per la prima ufficiale stagionale, partita che normalmente può rivelare delle incognite, ma la squadra di coach Piero Millina ha impiegato pochissimi minuti per mettere in chiaro le cose e creare un primo solco nei confronti del quintetto molisano, lasciato subito senza scampo, nel primo quarto Campli tocca già il più 13, prima di chiudere avanti il 18 a 9, all'intervallo lungo invece il parziale è già tale da mettere in ghiaccio la partita, 40 a 23, il quintetto Farnese non si rilassa, non tira su le mani dal manubrio, la voglia di gratificare alla prima stagionale il pubblico del Palaborgognone è tanta e così il dominio si protrae anche nel terzo e nel quarto quarto fino all'eloquente più 37 del punteggio finale, in un contesto ben distribuito finiscono 3 giocatori in doppia cifra, 12 per l'esperto Simone Gatti, 11 per Alberto Serafini che chiude in doppia doppia, per lui anche 10 rimbalzi e 10 punti per il centrone Salafia, bene anche Bottioni con 9 punti e 7 assist, serata tranquilla per David Petrucci, 7 punti con appena 4 tiri, bene anche l'ultimo arrivato Bruno Duranti, 9 punti, 7 rimbalzi e 3 recuperi in 24 minuti, per i Sernia 11 punti di Norcino e 10 di Salari, la Globo Info Service Campi ora può concentrarsi sulla prima trasferta stagionale sulla strada dei Farnesi e un'altra Molisana come Venafro. E questo era il nostro ultimo servizio, io vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con i colori biancorossi del Teramo con Pro Teramo, il TG6 torna invece nella terza edizione alle ore 23, adesso non cambiate canale, tra poco le previsioni, meteo è tutto, buona serata. Grazie a tutti.